Salve a tutti. Scusatemi la lunga pausa, ma ho avuto molti problemi e molti impegni in questo periodo. Non sono riuscito quindi a fare molto. Ma vi regalerò comunque questa breve griffata. Come avrete dedotto userò l'acqua, dato che tutto l'arresto è disabilitato, e subito iniziamo a ridere con questa rara perla regalateci dalla domini di turno. Ho iniziato provando ad allagare questa pseudo scacchiera. Quando inspiegabilmente il mio nuovo amico spunta come un fungo e mi chiede cosa sto facendo. Guardate com'è andata a finire. Tra parentesi. Questo mi ha rotto le scatole fin dal mio ingresso. Pure mentre ero nelle caverne a cercare materiali. Ok. Non potevo inventarmi una scusa più idiota. Per chi non sa l'inglese, gli ho detto che stavo provando l'acqua perché prima non funzionava. Resto in attesa del ban. Salvo. Ma come cazzo si fa ad essere così idioti? D'altronde dovevo immaginarmelo. Ci sarà un motivo se questo individuo gestisce un server di Minecraft e non una qualunque altra stronzata nella vita reale. A questo punto credo proprio che, appena mollerà un po' la presa su di me, con lui mi divertirò. Devo solo attendere. Perfetto. Ora che se ne è andato dal server e non ho più gli occhi puntati addosso avrò campo libero per un po'. Per iniziare ho creato un comodo scivolo ad acqua sulla scalinata della casa di un donatore di denaro reale che ora un altro admin sta usando per divertirsi. Mentre sarà distratto mi occuperò di questo villaggio con una ragnatela ad acqua e poi della suddetta casa. Non ho molto tempo. Devo fare in fretta ed essere preciso. Non sapete che nervi ho? Al prossimo episodio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.